lo zodi 105 presenta teste di casting per promuovere una linea di pentole lussemburghese chiamata shes la vittima sarà affiancata da una bella venditrice esperta e delegante a differenza delle televendite tradizionali però la shes cerca un testimonial che punti tutto sulla simpatia lui ce l'ha la faccia da televenditore anche uno che ti citofola per venderti bibbie tu sei un fiocco di neve lui è di finley tutti insieme tutti e quattro insieme stiamo cercando una persona che affianchi la conduttrice di questa nuova serie di televendite che stiamo facendo come ti chiami stefano sei fidanzato quella è la parte più bella di sera il fisico educazione inglese sei bravo con la mimica si dai allora tira la fune vai tirami la fune la lancia fagli tirare una testata alla zucca dal nulla no c'è la televendita lei sta spiegando le pentole tu prendi e pam dai la testata alla zucca fottore partito e 3 2 1 azione buonasera bentornati a una nuova puntata di shwish lui è un antivegano ha paura delle verdure lei alza la zucca tu ti spaventi tu sei l'antivegano cioè tu hai il terrore delle verdure cos'è un antivegano vai sarà azione bentornati a shwish una nuova puntata con piene di frutta prendiamo la zucca no ma cosa vedo nei miei occhi eh no è meno teatrale no fai schifo così e prende gli asparagi si conficca al costato dopo la testata frase 1 testata zucca frase 2 trafitto dagli asparagi frase 3 padellata su un dito e poi corri via in fiamme solo per oggi le pentole di shwish sono in offerta a metà prezzo ti prego ti prego voglio vederlo quando si trafinge con gli asparagi in acciaio inoxidabile perché shwish vuol dire meraviglia alterna l'a con il no azione la zucca no niente zucca asparagi banane ok proviamo ragazzi buonasera a tutti bentornati alla nuova puntata di shwish shwish nooo nooo trauma cronico trauma cronico ma fondumentata di shwish prima Ha 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 ha!